Un incontro per mostrare in modo semplice e non strumentale solidarietà ma anche ferma condanna verso qualsiasi tipo di violenza che voglia intimidire e limitare le basilari regole di libertà e convivenza civile e democratica. E' questo il messaggio lanciato dal presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, che a nome dell'intero ufficio di presidenza ha colto a Palazzo Lascaris il giornalista della stampa Andrea Jolie, che la sera del 20 luglio scorso è stato aggredito a Torino da alcuni militanti di Casa Pound. Siamo contro la violenza, il Consiglio regionale è contro la violenza, qualsiasi forma di violenza e siamo concordi nel dire che chi usa la violenza si pone al di fuori della dialettica democratica e quindi è dalla parte sbagliata a prescindere. Libertà di stampa sempre. Assolutamente, la nostra solidarietà va alla persona innanzitutto perché credo che a essere inciso più nell'anima dopo una vicenda di questo tipo sia proprio l'ambito personale, ma anche alla categoria dei giornalisti che non devono subire delle prevaricazioni o delle violenze come in questo caso e devono essere liberi di riportare quello che vedono ed esprimere i loro giudizi. È stato un invito che mi è piaciuto ricevere perché secondo me è importante che la politica si esprima su quello che è successo e poi possono anche ragionare sulle soluzioni, sulle conseguenze che questi episodi, che non sono stato il primo, di certo possono servire per evitarli. All'incontro era presente anche il vicepresidente del Consiglio, Domenico Ravetti. Il messaggio è un messaggio molto chiaro. Le istituzioni di fronte a qualsiasi forma di violenza sono unite e non staranno mai al fianco di coloro i quali la esercitano. Le istituzioni stanno al fianco di chi lavora e di chi racconta come giornalisti fatti di cronaca. Stiamo al fianco delle libertà. Al termine dell'incontro, a cui ha partecipato anche Giampiero Leo, vicepresidente del Comitato Diritti Umani, Giulia ha visitato la mostra Palazzo Lascaris e i suoi abitanti, allestita in Galleria Carla Spagnuolo. L'esposizione narra quattro secoli di vita del palazzo, dai fasti barocchi di fine 600 per arrivare alle ultime leggi regionali approvate nell'aula sotterranea, attraverso documenti originali, fotografie e video, fino agli attuali imponenti restauri, che si concluderanno nel 2025, che hanno svelato affreschi ottocenteschi e decori finora sconosciuti. Grazie. Grazie.